All'Expo di Dubai il mio governo regionale ha deciso di raccontare agli investitori nazionali ed internazionali le opportunità della zona economica speciale e della zona franca che insistono al ridosso del porto di Gioia Tauro. Abbiamo ritenuto che la Calabria non avesse alcun interesse a presentare all'interno del padiglione Italia la dieta della longevità o le teche per esporre immagini rare, solo per fare alcuni esempi, dice Roberto Chiuto, presidente della regione Calabria. Tutte belle iniziative, per carità, ma la crescita di una regione si stimola con ben altri progetti. Per questa ragione ho deciso di riorganizzare la nostra presenza presso l'Esposizione Universale negli Emirati Arabi Uniti, riducendo i costi e mantenendo lo stanziamento di 400.000 euro per l'internazionalizzazione delle imprese calabresi. È stato incaricato dunque il Forum Ambrosetti per sviluppare una grande iniziativa di promozione della Calabria concentrata per l'appunto sulla ZES e la zona franca del porto di Gioia Tauro. Avremo una giornata chiave. Il Calabria Day, concordata con il Governo nazionale per il 21 marzo, con la presenza di tante personalità, con la partecipazione presso gli spazi a noi dedicati del Ministro per il Sud, Mara Carfagna, Saranno coinvolti inoltre, e continua il Presidente Occhiuto, investitori nazionali e internazionali che avranno un dialogo diretto con l'amministrazione regionale. La nostra intenzione è quella di lavorare per lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, uno dei hub più importanti del Mediterraneo. La mia amministrazione vuole ulteriormente valorizzare un territorio che deve sempre più diventare un volano per la nostra regione, rafforzando con crude occhiuto gli interscambi e le rotte commerciali.